Dunque, per trovare Eli l'elefante, devo cercare uno spazio grande, foglie e tanto fango. Dove posso trovarlo? È davvero complicato! Ma manca ancora qualcosa! Che cosa manca? Che cos'è? Non mi piace aspettare! Six lemons, sei limoni! Ah, povero Pato! Sapete dire a Pato quanti cuori ci sono? Six, è esatto!